Acqua e metano nella zona dei Vivai a Levanella. Il comune di Montevarchi ha raggiunto un accordo con i gestori per rapportare i due servizi essenziali nell'area compresa tra la strada regionale 69 e il fiume Arno. Un'intesa storica l'ha definita la sindaco Silvia Chiassai Martini che permetterà ai cittadini e alle imprese della zona in questione di godere di pari opportunità. Per dare concretezza proprio a questa opportunità sarà necessario estendere sia la rete idrica che quella del gas metano. Per quanto riguarda la prima sarà realizzato un nuovo tratto di rete lungo 1,2 km mentre per la seconda servirà un intervento che aggiungerà 3 km di nuova rete. Il gestore Centria si è fatto carico della progettazione dell'intervento e si assumerà interamente anche l'onere della realizzazione della rete del gas rendendosi disponibile anche a dare agevolazioni per i costi di allacciamento. Per quanto concerne Publiacqua e Autorità Idrica Toscana le estensioni di rete idrica non comprese nel piano di ambito prevedono una compartecipazione del comune per il 60% e il 40% resta a carico della tariffa del servizio idrico integrato per un costo complessivo di 250.000 euro. Il Consiglio Comunale ha autorizzato stamattina lo stanziamento della quota di partecipazione lasciando a carico del cittadino solo la contribuzione per le normali spese di allacciamento. Per noi non esistono cittadini di serie A e di serie B, ha commentato il primo cittadino montevarchino che ha ricordato come l'accordo in questione sia solo il terzo caso in Toscana di intesa tra Publiacqua e un comune che si fa carico delle spese senza far gravare il costo delle operazioni eccezionali sui cittadini. La nostra comunità è unica, ha sottolineato Chiassai Martini, e vogliamo che possa usufruire delle stesse opportunità su tutto il territorio. Continueremo a lavorare perché le nostre frazioni e le realtà più piccole possano avere garantiti i servizi come gli altri cittadini, poiché sono ancora molte le zone scoperte.